La puntata odierna di Uomini e Donne si apre con Gemma Galgani, una delle protagoniste più amate e discusse del programma. La conduttrice Maria De Filippi nota l'eleganza e la vitalità della dama torinese, che sembra vivere una nuova primavera, suscitando l'interesse del pubblico per le novità nel suo percorso sentimentale. Tra Gemma e Fabio emergono i primi fraintendimenti, ma dopo un momento di tensione riescono a chiarire le loro posizioni, riportando un sorriso sul volto della Galgani. Le relazioni all'interno del programma sono caratterizzate da alti e bassi, rendendo ogni puntata un viaggio emotivo. Ilaria e Margherita si confrontano con Vincenzo e William, con contrasti che portano alla fine della conoscenza tra William e Ilaria. Le dinamiche del programma cambiano rapidamente, con relazioni che nascono e si spezzano velocemente. La situazione tra Margherita e Mario Cusitore si complica ulteriormente, con litigi e accuse reciproche che evidenziano le fragilità delle relazioni all'interno di uomini e donne, dove la fiducia è spesso messa alla prova. Nell'esterna tra Martina De Ioannon e Ciro, le tensioni tra corteggiatori emergono quando Gianmarco accusa Ciro di manipolare la situazione. Le rivalità tra corteggiatori influenzano le dinamiche del programma, creando tensioni che si riflettono anche nelle relazioni con le troniste. In un contesto così complesso, uomini e donne continuano a catturare l'attenzione del pubblico con storie di amore, conflitto e chiarimento, trasformando ogni puntata in un palcoscenico di emozioni e tensioni, imperdibile per gli appassionati di reality.